fratelli e sorelle religiosi e religiose qui presenti fratelli e sorelle che ci accompagnano per la tv telepance d'italia e per il christian media center della custodia di terra santa il brano evangelico donato dalla madre chiesa in quest'oggi ci riporta alle rovine della vicina città di cafarnao tanto cara a noi anche tanti religiosi abbiamo già lavorato e abbiamo servito a cafarnao che è proprio la casa dell'apostolo pietro la città che gesù ha scelto come dimora della sua predicazione la sosta dei suoi viaggi dei pellegrinaggi dove ha conosciuto i discepoli li ha maestrati insegnato anche dove nella collinetta vicina le beatitudini dove lui si recava a pregare come ci è ricordato il vangelo la città di cafarnao non era una città più importante non era tra quelle più importanti attorno al lago e qui troviamo una coerenza in gesù di nazareth dalle rovine cioè dalla semplicità e piccolezza di nazareth gesù ha scelto anche una un luogo piccolo e semplice per continuare la sua vita pubblica vuol dire la vita nascosta nella semplice piccola nazareth la vita la vita pubblica nella piccola e semplicità di pescatori quella di cafarnao quindi la continuazione della coerenza della vita del maestro gesù col suo vangelo però era un luogo strategico perché c'era anche una dogana la via chiamata via maris a cafarnao che raggiungeva l'egitto quindi era anche molto strategico vivere a cafarnao per gesù perché lì passavano tutti e così lì anche gesù incontra matteo che raccoglieva le tasse e quindi sono stati momenti anche di tanti incontri importanti però sono tanti gli episodi della predicazione di gesù a cafarnao guarigioni fatti rilevanti della vita di gesù della vita dei suoi discepoli che sono successi a cafarnao e nella casa di pietro e uno di questi è la guarigione della suocera di pietro che era letto con la febbre allora siamo attenti che tutte le guarigioni presentate da gesù nei vangeli sono per riferire un evento un episodio della vita del maestro questo troviamo in tutti tutti i vangeli però il modo in cui viene raccontato dobbiamo stare molto molto attenti ai particolari perché in modo come viene raccontato i miracoli gli eventi c'è sempre un obiettivo o catechetico o che ci vuole provocare perché è stato scritto per una comunità per una comunità reale per questo dobbiamo veramente stare molto attento molto attenti perché sono di una ricchezza unica è il modo di raccontare dell'evangelista e il racconto della guarigione della suocera di pietro anche se molto breve è molto significativo allora questa donna era a letto era incapace di muoversi non riesce a rendersi utile e così è senza progetto perché è bloccata non viene specificato la malattia che aveva ma solamente che aveva questa febbre che la teneva bloccata attenzione non è una semplice influenza gesù aveva altro da fare che stare a guarire dalle semplici influenze che abbiamo anche noi con un po di febbre attenzione non era un'influenza semplice perché altrimenti non veniva raccontato come un episodio importante la condizione della suocera di pietro attenzione che è la condizione di tanti uomini e donne che sono bloccati ho trovato anche religiosi e religiose che diventano e sono bloccati non riescono a servire e tanto che una delle condizioni quando qualcuno arriva per la vita religiosa dobbiamo stare molto attento a quanto uno è capace di muoversi di servire o meglio tante persone sono anche nelle infelicità di non poter servire di quelli che sono paralizzati ci sono tante volte pessimismi immaginiamo una socia era a casa che si lamenta che nulla va bene che sta lì quasi in una depressione cronica no è cronica è molto difficile persone che sono totalmente bloccati oppure persone che sono la calamita del male tutto va male nel mondo pessimisti oppure quelle che sono le calamite delle cattive notizie ci sono quelli che raccolgono tutte le cattive notizie per pensare male degli altri e sono lì veramente bloccati questa era la situazione della suocera di pietro e quando gesù guarisce da questa malattia nasce un mondo nuovo per questo è bello il modo che gesù guarisce la socia era di pietro la prima che parlano con gesù della situazione di quella donna perché avevano sapevano della sua infelicità cioè i discepoli chiedono a gesù pregano a gesù che questa donna veni guarita per questo il primo messaggio non dobbiamo essere indifferenti al dolore dell'altro quando sono persone così pessimisti bloccati che non vogliono fare niente la prima nostra reazione la nostra prima reazione è allontanarci da queste persone invece no non dobbiamo essere indifferenti e poi gesù si china sulla donna che aveva la febbre si china vuol dire gesù si accosta alla sua realtà della sofferenza si avvicina uno dei rischi dei discepoli di gesù è proprio quando si trova in situazioni difficili con persone che hanno la febbre del peccato delle realtà disumane noi ci allontaniamo noi ci allontaniamo non vogliamo stare con chi sta male no qualcuno dice così ah io voglio stare con chi sta bene che ho bisogno essere allegro dove stare bene no dobbiamo chinarci sulla sofferenza degli altri peggio ancora quando qualcuno dice così io non ho il carisma per aiutare gli altri è terribile questo no io non ho il carisma per aiutare quando c'è qualcuno che sta male io devo stare lontano perché altrimenti mi sento male io attenzione il vangelo ci dice proprio altro il signore Gesù ci insegna altro Gesù si avvicina non si allontana Gesù si china e la fece alzare risuscitare la portò in una vita nuova e poi l'effetto della guarigione li serviva questo è l'effetto della guarigione li serviva il verbo è all'imperfetto attenzione e va lasciato così com'è li serviva la gioia della vita si manifesta nella gioia del servizio si dice che noi dobbiamo passare ad essere solitari ad essere solidali no la solidarietà l'amore servizio la diaconia si è guariti quando si comincia a servire ad amare il servizio è la caratteristica del vero discepolo discepolo di colui che è venuto per servire dice Gesù attenzione che l'ideale dell'uomo greco ed è arrivato fino ai nostri tempi è il dominare sull'altro il comandare invece Gesù è venuto a capovolgere la vita del discepolo è servire e vorrei concludere con una bellissima immagine della casa di Pietro della casa di San Pietro frutto degli scavi del nostro padre Corbo e di padre Loffreda a Cafarnaum questa immagine della moltitudine di malati sofferenti che attendevano davanti alla casa di Pietro davanti a quella porta un'immagine molto bella no? i Vangeli ci danno questa immagine che la gente si recava quasi si accumulavano lì davanti alla porta della piccola casa di San Pietro che è un'immagine di tutti noi che attendiamo davanti alla porta di quest'unica porta che è la Chiesa dell'unica porta che è la Chiesa che si trova Gesù e da questa porta è da questa porta che esce la verità che crea un mondo di pace un mondo nuovo da questa porta esce la salvezza però soprattutto quella quell'umanità di Gesù che ci guarisce dalle nostre infermità dalle nostre febbri forse possiamo già vedere che qualche febbre abbiamo anche noi di infelicità di rancore forse di non felicità oppure di pessimismi forse dobbiamo essere guariti anche noi anche nelle nostre comunità religiose saremo più felici ci avviciniamo a questa porta e solo da questa porta fratelli e sorelle possiamo ricevere la vera felicità la nostra salvezza Amen Il Christian Media Center ha la missione di portare al mondo il messaggio della Terra Santa la terra del Quinto Vangelo trasmissioni, reportage, notizie, documentari, attualità della Chiesa e della vita quotidiana dei cristiani della Terra Santa potete aiutarci in questa missione far conoscere e diffondere il messaggio della Terra Santa aiutateci visitate il nostro sito